Spazio letterario targato mattina 9, oggi presentiamo un libro che è un gran successo anche perché quello precedente lo è stato a sua volta con migliaia di copie vendute, sto parlando di Napoli Monamour, un libro che sta dando anche nuova linfa al teatro partenopeo e non soltanto. Parliamo di Alessio Forgione che presenta qui oggi giovanissimi sulla stessa scia dell'altro libro, oggi ci propone sicuramente dei grandi spunti di riflessione interessanti, intanto perché come recita il titolo Alessio parla del disagio giovanile, un po' anche dei sogni interrotti, insomma di una generazione e poi perché certamente porta al lettore una chiave riflessiva. Intanto ben trovato. Ciao, buongiorno. Allora, secondo libro, il primo è stato un gran successo, ricordiamo così per un attimo che sarà tradotto in francese e russo, quindi si propone anche sul mercato estero, ma oggi parliamo di Napoli però. Sì, questo libro qui, giovanissimi, è uscito la settimana scorsa, il 23 gennaio, parla sostanzialmente, il protagonista si chiama Marocco, ha 14 anni, vive a Soccavo insieme al padre, tra le tante cose che fa, gioca a calcio, frequenta il primo anno del liceo scientifico senza molta fortuna, che non è un studente, come dire, modello anzi. E quindi sostanzialmente quello che ho provato a fare è raccontare quella che possa essere la vita di un adolescente e dei suoi amici all'interno di Soccavo, Rione Traiano, quartieri dove loro girano. E quindi, cioè, cercavo, quello che cercavo di fare era sostanzialmente dare una struttura psicologica e sentimentale a persone che molto spesso non vengono descritte in questo modo, perché di solito quando si fa una rappresentazione della Napoli, come posso dire, periferica, delle vite ai margini, è sempre un po' glamour, un po' quasi glamour, un po' come posso dire... Ritorica, forse. Eh sì, un po' sì, un po' semplicistica. Peraltro, Rione Traiano e Soccavo, che non sono quei quartieri che noi immaginiamo, tipo Scampia, Ponticelli, un po' ai margini, eccetera, sono dei quartieri, come dire, considerati non come quelli centrali, ma comunque dove si sente la vita, soprattutto dei ragazzi. C'è al suo interno un grande fermento culturale, una voglia di emergere, in qualche maniera. Tu, peraltro, nasci proprio in questi quartieri, hai cercato di scoprire e raccontare una realtà altra rispetto a quello che appunto i media fanno di questi quartieri? Diciamo che quello che i media fanno, secondo me, è arrivare lì e dare la versione più semplice possibile, perché comunque, magari, non so, lo spazio a cui queste cose possono... Cioè, lo spazio destinato a queste due cose è piuttosto ridotto. Quello che penso io è che, invece, ci sarebbe molto altro da dire. Eh sì, Soccavo e Rione Traiano, in effetti, sono a una fermata di Cumana dal centro. Esatto. E non sono distanti, perché comunque lo stadio è lì, è tutto più o meno a portata di mano. Però, in realtà, forse questa è anche la loro sfortuna, perché sono la periferia della periferia. Perché mentre Secondigliano, Scampia, c'è un fortissimo associazionismo a Soccavo, almeno che, da quanto io ne sappia, cioè, nel senso, io sono stato via per molti anni e sono tornato da poco. Però quello che sto vedendo attorno a me è che, in realtà, ci sono un centro sociale, c'è qualche altra associazione, ma tutto poi è lasciato un po' lì. Alessio, vediamo a te. Allora, intanto, dicevamo in apertura che hai avuto un grande successo col libro precedente. Napoli Mon Amour, uno spettacolo che vedremo al Teatro Mercadante di Napoli. Quindi, fiori all'occhiello della nostra città. Un lavoro che hai fatto su te stesso, per raccontarlo agli altri. Perché la scelta, appunto, di raccontare certe sensazioni, questi sogni spezzati, ma anche dei sogni ancora in divenire, dei traumi legati alla nostra città, legati a, comunque, delle condizioni di vita complesse. Come nasce questa ispirazione autobiografica? Che cosa vuoi comunicare? Che cosa bisogna aspettarsi da questo libro? Beh, secondo me, quando si scrive, c'è sempre una componente autobiografica. Adesso non saprei quantificare se è il 10, il 15, il 70%, però sicuramente... Certamente esperienziale. Sì, sicuro, di sicuro. Quello che forse mi interessa fare come scrittore è quello di raccontare la vita per quel che è. Cioè, nel senso che vivere a Napoli, così come in qualsiasi altra parte del mondo, però Napoli magari, a suo modo, è un posto abbastanza complicato. Soprattutto quando... In questo caso, invece, giovanissimi parla di adolescenti, perché... Adolescenti negli anni 90, e perché mi interessava dire... Cioè, non so, provare a capire... Stesso parlandomi, come dire... Questi sono i trentenni di oggi di cui faccio parte. Da dove parto? Eh, sì. Come siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi? Beh, una grande riflessione che mi fa pensare un po' a Pasolini, sotto certi aspetti. Lui ha tradotto un po' quelle che erano le consuetudini romane della periferia, ritraendo un po' quello che era il disagio sociale, economico, soprattutto di quegli anni. Sì, senz'altro. Non lo sei ispirato, ma insomma, mi hai fatto pensare. Secondo me, non in linea diretta, però di certo stimo moltissimo tutto il lavoro di Pasolini, la sua figura intellettuale, proprio quello che lui diceva. Sicuramente la sua fascinazione per le periferie era un po', come dire, esterna alle periferie stesse, perché lui comunque era un osservatore più che uno dei partecipanti, tant'è che i suoi amici, per esempio, mi ricordo Moravia, diceva che Pasolini impazziva perché amava questi sottoproletari, poi questi sottoproletari appena facevano due soldi volevano comprarsi la Honda come i borghesi e Pasolini impazziva di dolore. Io, cioè, come tu dicevi, io sono nato e cresciuto a Stoccavo, ci vivo tutt'ora, dopo un periodo londinese. Quindi, sostanzialmente, io non cerco di porre nessuna distanza tra me e le cose di cui parlo. Cioè, le cose di cui parlo è perché mi sembra di conoscerle e di avere la necessità di capirle ulteriormente e quindi rifletterci su. Hai un approccio molto umile al tuo lavoro, in realtà però ti hanno già associato a qualcuno di importante. Penso a Raffaele Lacapria, per esempio. Partenopeo, grande scrittore, icona anche della scrittura di questo tempo. Beh... Ha un peso questa attribuzione? No, ad essere sincero no, perché il precedente libro Napoli Monamur parlava appunto di un trentenne in cerca del suo futuro, no? Che è un po' il tema di Ferito a morte, che è il romanzo capolavoro di Lacapria, che per quanto mi riguarda è il più bel romanzo mai scritto in lingua italiana. Quindi siccome c'era... Che bello, no? Che bella emozione. Sì, sì, no, senz'altro. Poi siccome c'era, non so come dire, questa convergenza sull'argomento, se tu non lo dichiari, magari lo stai facendo con malizia, allora invece sono andato proprio a, in certo qual modo, a sfidarlo, tant'è che Lacapria è un personaggio dell'altro romanzo. E quindi, no, vabbè, tutti i complimenti fanno piacere, questo in particolar modo. Alessio, ma secondo te che momento stiamo vivendo? Qual è questo momento che tu cerchi di ritrarre attraverso le pagine del tuo libro? Cioè è un momento difficile, complesso di crisi, c'è una speranza, vedi una risoluzione dietro l'angolo, parlando con questi adolescenti che tu hai incontrato nel libro, vedi una speranza concreta dal punto di vista proprio umano, prima che sociale? Sì, no, ti dirò, io non credo nella, come posso dire, nella politica, quella lì, reale, però credo nel far politica e credo che la speranza futura venga dalle persone. Società civile. Sì, per dire, ieri sera ero all'ex OPG per la proiezione di selfie in film di Agostino Ferrente, perché i ragazzi del Risopaz devono comprare un ecografo portatile, all'interno del centro sociale, che è un centro sociale, quindi se vogliamo è una struttura abusiva, ma loro fanno un milione di cose, un milione di attività, ma anche sanitarie, che veramente servirebbe al comune di Napoli, però magari la politica, non so, per un motivo o per un altro non arriva a farla, però delle persone che, ecco, finito di lavorare, vanno lì e cercano di fare un qualcosa per il proprio prossimo, per la collettività, quella secondo me è la speranza tutta. Rivoltare un po' la cattedra, no? Ma sì, anzi, proprio toglierla proprio di mezzo la cattedra, cioè parlare viso a viso, senza alcuna separazione. Spero come stiamo facendo noi oggi. Assolutamente. Alessio Forgione, un grande talento parte europeo, con il suo libro Giovanissime, che segue Napoli Monamour, che è un grande successo, lo vedremo al Teatro Mercadante quest'anno. Ricordiamo che si tratta di uno scrittore che sta anche valicando a gran forza i confini nazionali, perché in Russia è tradotto anche in Francia e in francese questo libro, perciò un grande successo che noi gli auguriamo, ma sicuramente già lo sta tenendo alla grande. Grazie di cuore, Alessio. A voi. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme.